Il messaggio che il coordinamento Liguria-Rembo e in particolare le famiglie Arcobalena appoggiate da quarta parte della cittadinanza vuole lanciare al sindaco è un po' quello che abbiamo già detto in sala consigliare. Sono stati disumani a andare contro a una sentenza del tribunale per mera ideologia. Stiamo parlando di bambini e di bambine, non ci stancheremo mai di raccontare le nostre famiglie e l'importanza che abbia a riconoscere il diritto alla tutela dei minori. Grazie.